La Serie D è lì a portata di mano, manca poco, pochissimo e poi il Gela potrà festeggiare. Mancano solo tre partite alla fine del campionato di eccellenza e i biancazzurri ancora una volta hanno dimostrato compattezza consolidando la vetta della gradatoria. Sono sempre cinque i punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la San Cataldese, che ieri ha violato il campo dell'Alcamo. Ma la squadra del tecnico Totò Bruccoleri è un carro armato, non si ferma più. Ieri sul neutro di Noliotta di Licata, la squadra tanto cara al presidente Angelo Tuccio ha rifilato cinque gol alla Pro Favara, un 5-0 che non amette repliche. Il divario tra le due formazioni è stato evidente e i biancazzurri hanno festeggiato l'ennesimo successo dinanzi a tanti tifosi che hanno raggiunto la vicina Licata con ogni mezzo. Il Gela ha pure sprecato un calcio di rigore con Mincica, bravo il portiere Agrigentino a pararglielo. Però poi non c'è stata storia. Ad aprire le marcature ci ha pensato al 41esimo Alma un gol direttamente su calcio d'angolo. E nella ripresa i giolesi hanno schiantato l'avversario. Prima una traversa colpita da Scerra, poi al sesto il gol di Nassi. Lo stesso attaccante biancazzurro si è ripetuto al 13esimo, 3-0. Predominio assoluto dei giolesi. Le altre reti sono state siglate da Russo al 33esimo e da Scerra quattro minuti dopo. Un pocherissimo ampiamente meritato. E dalla fine applausi per tutti. Il campionato di eccellenza adesso serverà un turno di riposo per le festività pasquali. Si riprenderà domenica 3 aprile. Il Gela sarà atteso dal confronto casalingo con il Castelbuono. Potrebbe essere la partita che chiuderà i giochi. Una vittoria dei biancazzurri ed un mancato successo della San Cataldese in casa della Libertas spalancherebbe le porte della sede di ai giolesi. In occasione delle due partite che si giocheranno al Presti contro Castelbuono e Curse Palermo la società biancazzurra ha deciso di ripetere l'iniziativa con le scuole. Tutti gli studenti delle scuole medie e superiori potranno acquistare i biglietti in curva al prezzo di un euro. Grazie a tutti.